Sei stato brillantissimo nelle prime due tappe, specialmente ieri. Sì, sono un periodo dove mi sento bene, vengo da tre settimane sul Teide, oggi è una tappa dura e voglio fare bene. Devi inventarti qualcosa per battere questo Tau che sembra insuperabile. Sì, però oggi ci sono 15 km di salita sul finale e penso che si deciderà tutto lì e vedremo magari sui ultimi chilometri dove si farà sentire la salita. Abbiamo visto che oltre te anche la squadra sta lavorando molto bene. Sì, sì, alla fine è tutto l'anno che corriamo bene, abbiamo fatto fatica a fare i risultati e dal Sicilia stanno arrivando e continuiamo con questo andamento. Grazie.